Incontro con l'assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello per sindacati ed una rappresentanza di lavoratori delle officine Maccaferri Manifatture dello Stabilimento di Bellizzi. L'assessore Marchiello scriverà al governo per concordare un tavolo risolutivo. A seguire l'avvertenza anche il consigliere regionale del Partito Socialista Andrea Volpe. Si è appena concluso il tavolo con i sindacati e l'assessore regionale Antonio Marchiello. Naturalmente al tavolo digitale hanno preso parte anche i rappresentanti dei lavoratori dello Stabilimento Maccaferri di Bellizzi. Siamo in bilico, non si sa che fine farà questo stabilimento e ormai da mesi si attendono risposte. Devo ringraziare l'assessore Marchiello perché si è impegnato a sollecitare un tavolo con il Ministero e con la speranza di avere a questo tavolo anche la nuova proprietà. Per avere risposte per questi lavoratori è impensabile rimanere così nel vuoto, nel buio, nell'incognita. Un pensiero ancora una volta va a queste famiglie che sono preoccupate, a quei lavoratori che da anni sono protagonisti di questo stabilimento storico per la comunità di Bellizzi ma per la Piana del Sele. L'impegno della regione Campania sarà massimo, un'attenzione massima per provare a risolvere una questione davvero molto delicata.